Pronto a scendere nuovamente in campo, a mettersi completamente a disposizione del Partito Democratico indipendentemente se nel maggioritario o nel proporzionale, alla Camera o al Senato, opzione quest'ultima più probabile, il deputato uscente Tino Iannuzzi è in attesa quindi delle decisioni definitive del PD. Io attendo con grande tranquillità le decisioni del mio partito che rispetterò qualunque esse siano. Naturalmente sono pronto a scendere in campo se il mio partito me lo richiede nella condizione che mi sarà detta. l'uno o l'altro ramo del Parlamento, anche e soprattutto nel collegio uninominale per verificare il lavoro svolto e per assumere un nuovo impegno di fiducia e di speranza con i nostri territori che ne hanno bisogno. dicendo che posso avanzare una considerazione, rispetterò gli impegni perché in questi anni li ho rispettati, posso dire che farò perché in questi anni ho fatto e le realizzazioni sono davanti agli occhi di chiunque vuole giudicare. Iannuzzi ha voluto anche precisare la questione relativa alla deroga necessaria per la sua candidatura. La segreteria provinciale del PD e il partito regionale all'unanimità hanno richiesto in campagna un'unica deroga per il sottoscritto in ragione del lavoro che ho svolto in questi anni sul territorio col mio radicamento ma anche in Parlamento. Io penso di poter dire con umiltà che in tutto questo periodo non sono stato un deputato, sono stato il deputato di Salerno della Campania che in tanti casi ha portato avanti e ha risolto le questioni del nostro territorio e del mezzogiorno. Dall'autostrada 2 del Mediterraneo completata alla facoltà di medicina, agli piccoli comuni, agli incentivi per le nuove imprese, agli eco bonus, a tante questioni nel campo delle infrastrutture come il raccordo Salerno-Avellino che è addirittura d'arrivo, a un'opera di raccordo che ho sempre svolto con le amministrazioni locali per acquisire finanziamenti importanti per opere pubbliche. Intanto per gli annuzzi i sondaggi che circolano lascerebbero il tempo che trovano. L'ultimo, Ipsos per il Corriere della Sera, assegnerebbe al Partito Democratico un solo seggio alla Camera Uninominale in Campania. C'è tanta gente che allo stato attuale non ha formato alcuna opinione di voto, tutti gli esperti ci dicono che molte scelte vengono a realizzarsi nell'ultima settimana, ecco perché bisogna essere in campo con serietà di proposte programmatiche ma anche con autorevolezza e credibilità delle candidature. Su questo terreno io penso che si gioca la partita decisiva perché questo sistema elettorale consente con i collegi di restituire ai cittadini il potere di scegliere un deputato e un senatore che ha una storia, ha un percorso, ha una vita di impegno professionale, civilo politico da mettere in campo e su questo io penso maturerà il giudizio di tante persone.